Un incontro tra le maggiori autorità istituzionali non solo della regione, ma anche della soprintendenza dei beni culturali per discutere sulla nosa questione dei campi di Omedei, in un'assemblea monotematica di Corso Garibaldi. E' stata questa la decisione presa dalla conferenza dei capigruppo delle forze politiche presenti nel Consiglio Comunale Foggiano. Inoltre, nella stessa riunione, è stato deciso di convocare un'ulteriore conferenza dei capigruppo sulla medesima questione, nel corso della quale sarà anche presente il sindaco Lantella, che relazionerà sul colloquio che lo stesso ha avuto con il direttore generale della soprintendenza. Il presidente del Consiglio, Luigi Miranda, ha ripetito come la questione debba essere affrontata con grande ponderazione, senza polemiche, preconcette e nel rispetto delle competenze di tutti, evidenziando però come da troppo tempo Foggia e di Foggiani attendono che lo spazio in questione venga restituito alla città e dalla fruizione dei cittadini. Ho ritenuto necessario discuterne con i rappresentanti della massima assise consigliare al fine di individuare le determinazioni che potranno essere intraprese per comprendere qual è la strada per arrivare ad una soluzione definitiva che contemperi le esigenze in campo dal punto di vista evidentemente del rispetto della norma e della burocrazia e nello stesso tempo di ridare la fruibilità e finalmente il completamento dei lavori di un parco urbano che la città aspetta da molti anni. Con il soprintendente Picchione, con i tecnici dei vari enti, possiamo sederci e vedere laddove è possibile fare delle modifiche. Io voglio soltanto sottolineare che si tratta non di una mancata autorizzazione da parte della soprintendenza ma di un'autorizzazione già rilasciata da un soprintendente e che può modificarsi, la legge parla chiaro, nell'ambito dei cinque anni solo se i lavori non sono iniziati. Questa è un'altra illegittimità da parte dell'atto. Quindi noi comunque non vogliamo calcare la mano, come ho detto prima vogliamo cercare di trovare una strada di risoluzione del problema in maniera pacifico. Dal provvedimento di revoca non si capisce se siano state realizzate delle opere in difformità a quanto precedentemente autorizzato che può essere l'unico motivo per la revoca di quel provvedimento. Diversamente, se ci sono delle ulteriori prescrizioni queste prescrizioni dovevano essere puntualmente elencate in quel provvedimento di revoca in autotutela.